Il rinnovato Museo Regionale di Scienze Naturali ha ospitato la conferenza stampa di inizio anno del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e della sua Giunta, al completo per guardare a un anno ricco di impegni per il territorio e presentare come priorità per la fine della legislatura temi come sanità, lavoro, infrastrutture, qualità dell'aria, sostegno a famiglie, imprese e fragili. I punti salienti sono di un Piemonte che è ripartito, che si è sbloccato e lo testimoniano le certificazioni dei numeri. Noi abbiamo una crescita del PIL che in Piemonte è più alta rispetto a quella della media nazionale e questo vuol dire che lo stato di salute dell'economia piemontese va bene e abbiamo i livelli di disoccupazione più bassi degli ultimi decenni. Tra i temi più delicati invece un'attenzione di riguardo alla sanità. Io dormirò sereno la notte soltanto quando a qualsiasi cittadino della mia Regione verrà permesso di fare una visita nei tempi che sono per lui necessari. Abbiamo tenuto di riuscire a farlo nelle visite e nelle prestazioni che sono considerate urgenti e quelle che hanno caratteristiche entro i 60 giorni, dobbiamo riuscire a farlo su tutti ed è per questo che abbiamo messo 25 milioni di euro in più di risorse regionali senza aumentare di un euro le tasse a carico dei cittadini. Tra gli obiettivi dei prossimi mesi ci sono l'approvazione della legge sulla casa che ha tra i suoi punti salienti la lotta all'abusivismo, le primialità legate alla residenza e la possibilità di calmirare le bollette energetiche per le fasce deboli e per i genitori separati in difficoltà economica e sul benessere degli animali. Il testo unico sul terzo settore è il bilancio previsionale. A proposito dei conti, il presidente ha ricordato che dal 2019 questa amministrazione ha pagato oltre 2 miliardi di debiti, senza alzare le tasse per i cittadini, con una gestione virtuosa certificata anche dall'agenzia di rating Moody's. Il 2024 consegnerà al Piemonte anche il nuovo piano per la qualità dell'aria, al centro di un tavolo tecnico che su basi scientifiche ne sta elaborando i contenuti come previsto dalla norma nazionale, con l'obiettivo di consolidare il trend di miglioramento della qualità dell'aria e centrare tutti gli obiettivi previsti dalle direttive europee per il 2025 e il 2030.